Allora finalmente stiamo per liberare i due nostri bufo bufo dopo che li abbiamo visti crescere per un mese come vedete finalmente la coda è scomparsa, sono perfetti per tornare in natura, natura fra virgolette che si attende in una fontana la biologa Chiara direttamente dall'università di Palermo ora mi salto dentro le t***e guarda che la devo mettere su youtube censurami è già saltato aspetta ok dove? qua ok inquadri è andato è andato è andato uno è andato il primo giorno io vi sarei io piu guarda che felice certo un sacco di pregatori adesso mi piace tutto il bufo bufo niente si ho registrato ok nooo mica che carino qui qua si ora ho un'impresa tra un paio di mesi vedrete queste cose maiali in acqua ecco eccolo ora apro la mano e scappa olè addio 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 sono tornato nell'ambiente naturale perfetto se vuoi puoi staccare ciao a tutti grazie per aver visto il documentale grazie a tutti